Ehi, tu hai i brufoli, come li combatti? Ma uso un prodotto, però... Non pretendere che un prodotto sostituisca un trattamento completo. Oggi c'è Achenal di Zambeletti, un detergente solido, un detergente levigante, una crema, una lozione. Agiscono separatamente e insieme. Achenal di Zambeletti, trattamento contro i brufoli. Solo in farmacia. Seguire attentamente le avvertenze. Dopo Mamma Gatta ci pensi tu, con Kitekat. Kitekat, per nutrirli bene, in modo completo ed equilibrato, con tante varietà tutte gustose. Dopo Mamma Gatta ci pensa Kitekat. Cipolla Uova Pesce Ogni giorno in grasso gli odori si attaccano i vostri piatti. La forza di l'asta al limone può staccarli. L'asta al limone ogni giorno vi dà piatti sgrassati e senza odore. L'asta al limone Piatti sgrassati e senza odore. L'asta in polvere ed oggi anche liquido, la stessa certezza di risultati. L'asta al limone in polvere o liquido, oggi anche in offerta speciale. Veri tortellini emiliani Riscopri i veri tortellini emiliani Barilla li fa anche con prosciutto crudo e parmigiano reggiano Tortellini Barilla Veri emiliani Vividend Chewing gum senza zucchero presenta Beer Bog La mia risposta vincente Dividend Il chewing gum senza zucchero Il chewing gum senza zucchero Dorg, perché hai scelto Vividend? Perché senza zucchero Vividend è la mia risposta vincente Vividend È gomma per i miei denti Vividend Il chewing gum senza zucchero La nostra cara mamma è brava anche perché Con formaggino mio, con formaggino mio Con mio sono tranquilla Perché buono da solo o con tanti buoni piatti E i bambini lo mangiano con gusto Mio da tante mamme a tanti bambini Impossibile Sporco di cucina, unto di pelle Ma l'unto è impossibile? No, non esiste sporco impossibile Perché vi ho presto bucato a mano liquida lo sporco impossibile Anche l'unto Visto che è pulito? Vi ho presto bucato a mano per tutto il vostro bucato Ricordo Per il regalo del mio compleanno Quanta curiosità E finalmente eccola La mia prima bicicletta Troppo bella E troppo grande Ma c'era la mamma Gli applausi dei cuginetti I consigli del vecchio nonno Il lungo viale del parco E dopo la mamma ci dava Nutella Proprio come oggi la do a voi Mamma, tu lo sai Nutella è sana per i tuoi bambini oggi Come per te allora Nutella Ferrero Ma sì Cosa importa se piove Se fa freddo Se c'è umidità Giusto sostegno e giusto calore Dottor Gibo Venite Anche il freddo è divertente Quando si è protetti Da una cintura Dottor Gibo La donna Il bambino L'uomo Ad ognuno la sua Gibo Giusto sostegno e giusto calore per tutti Se vuoi imparare Imparare davvero Fai come me chiedi In edicola a corso di chitarra Ci sono le cassette per sentire Le lezioni E i fascicoli E gli spartiti per studiare Parti da zero E migliori ogni settimana Sì perché ad insegnarti Ci sono due grandi Franco Cherry E Mario Gacci Corso di chitarra Vai in edicola E con 2500 lire Avrai La prima cassetta E due fascicoli Corso di chitarra Per fare musica Per fare amici Gruppo editoriale Fabri Quando i mulini erano bianchi Pannocchie Un nuovo sapore Con la bontà del mais E il colore del sole Domattina Pannocchie del mulino bianco Quelle con dentro anche la bontà del mais Mangia sano Torna la natura Con i biscotti del mulino bianco Barilla Quasi un secolo Da quando il dentifricio Pasta del capitano Veniva preparato artigianalmente Con amore e con cura Con materie prime sceltissime Le stesse Che entrano ancora oggi Nella pasta del capitano Prodotta in laboratori modernissimi Pasta del capitano Il dentifricio morbido Cremoso Per l'igiene della vostra bocca Fatto di cose buone Semplici Oneste Pasta del capitano Preparato con cura Dalla farmaceutici Dottor Ciccarelli Dal 1821 Mia suocera Vuol farmi credere Che la caramella balsamica Victor Se respira vivo Si sente nella gola E anche nel naso Nel naso Nel naso L'avrà visto in tv Nel naso Nel naso Nel naso È vero La caramella balsamica Victor Si sente nella gola E si sente nel naso Allora mia suocera ragione Sai come ti va Se cominci a reggi gillette Ti senti meglio Sei giusto Sei a posto Ok Con il bilama Che la faccia Sa trattare Il bilama Per incominciare Comincia bene Comincia il reggi gillette Mamma Quando mi compri Un vestito nuovo Bello come questo? Domani Sempre domani Si Quando papà ci aumenta Lo stipendio E intanto io che mi metto? Ah Perché questa gonna Non è carina È da buttare Secondo te Sfida è appena lavata Ma il vestito nuovo È un'altra cosa Fiducia Fiducia Vedrai che papà Arriva a casa Con una barca di soldi Dai Metti questa gonna Guarda che colori Guarda che colori Guarda che bianco Guarda che pulito Senti Puoi dire quello che vuoi Ma Ava mi aiuta da anni Senza deludermi mai Ava mantiene le sue promesse 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 No Fatti Fatti Per esempio Lo sporco che mi portate in casa Ava lo toglie facile facile E poi Il fustino di Ava È sempre pieno Ha sette tetti in più Quattro bucati gratis Sarà papà Con una barca di soldi Salve a tutti Beh Che c'è Allora Non vi piace Duracell dura di più Questi coniglietti Sono in funzione Da oltre un'ora Uno è alimentato Con Duracell Tutti gli altri Con normali pile Zinco carbone Uno dopo l'altro Quelli alimentati Con pile normali Si fermano Solo Duracell resiste Resiste Fino a cinque volte di più Duracell La pila nera e rame Duracell Dura di più Non mangi la vera? Eh non posso Perché? Tu piuttosto Come fai a masticare così Con la dentiera? Non è un problema Io uso una crema adesiva Che si chiama Cookie Dent Eh beh Prima di ogni pasto Usare l'adesivo Perché prima di ogni pasto? Basta metterlo una volta E resterà per ore La crema adesiva Cookie Dent Forma un sottile velo protettivo Che fissa la dentiera Perfettamente E a lungo Oh finalmente Hai provata eh Cookie Dent La sicurezza Della stabilità Alla standa Ecco le novità Casa Primavera 82 L'assortimento? Sì Una grande Grandissima scelta La qualità? Eccola qua Forti Belli Eleganti Servizi in ceramica Con decoro resistente Anche in lavastoviglie Splendide Da latte Tè e caffè Utilissimi contenitori In metallo litografato E i prezzi? I prezzi Della convenienza Standa Standa Tanta scelta Una sola qualità La migliore Morbido sulle tue mani Puoi Lavarle dolcemente Quando vuoi Dus 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 Liquido e profumo Lieve Schiuma sulle tue mani Quando vuoi Dus dus Mani morbide E lavandino sempre in ordine Con dus 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 Permesso? Scusate Un amaro ramazzotti Dopo cena ci sta proprio bene Beh un amaro ramazzotti Non si rifiuta mai È il mio amaro preferito Dai muoviamoci Facciamo qualcosa Volentieri Andiamo al cistro Andiamo Ma con una serata così E una sciarpa come questa Come si fa a non uscire? E voi? Ma cosa fate in casa? Venite fuori C'è tutta la serata davanti Io vado Amaro ramazzotti Il segreto Il segreto è nelle erbe E buona serata Dopo cena Amaro ramazzotti Ah carne simetal Per secondo? Certo È buona carne magra Nella sua gelatina Di brodo Ristretto È vero È proprio un buon secondo Con il grande concorso Cancella e vinci Prestigiosi servizi di pentola E altri splendidi regali Paola Ma sei ancora nella vasca? Sì Mi sto facendo bella Ti fai bella con un sapone? Sì Con Kamai Kamai non è un sapone come gli altri Ha una schiuma morbida Un profumo delicato Prezioso Francese naturalmente Sì Kamai è il mio sapone di bellezza Pensi di averne bisogno? Tu che ne dici? Kamai Quel pizzico di fascino In più Coca-Cola Coca-Cola dà più vita al tuo spuntino Coca-Cola è un sorriso Vuoi ciò che piace a te? E subito festa sarà E poi? Coca-Cola è con te Mi dai anche a me? Coca-Cola è con te Ehi sorridi? Coca-Cola è un sorriso Che spuntino che fai? Che gusto Che c'è Che c'è Dai sorridi anche tu Coca-Cola è un sorriso In farmacia c'è Polin Comfort L'assorbente a doppio conforto Polin Comfort Vedi? Ha due strati Eppure molto più sottile Di un assorbente normale Affidati a Polin Comfort L'assorbente a doppio conforto Proprio così capisci Io allora Scusa Anche tu Anche tu Anch'io Sai Io ho scoperto Lanza Oggi le donne sono molto più attente nei loro acquisti Oggi La qualità La quantità E il prezzo Sono più importanti Oggi Le donne hanno scoperto Lanza Lanza Più peso Meno soldi E un bucato perfetto E poi Non cambi più Non bloca . Di me Deve Polin Comfort Il verbale Il webare Il webare Impero Il webare Il webare Il webare Il webare Apparecchi Kodak Ektra Per avere in pugno la fotografia Perché oggi sempre più donne cambiano detersivo? Ce lo dice la signora Borges Eh sì, meno male che ho trovato il Dixan Pensi ai miei bucati Un marito pasticcere, le maglie del figlio grandi Grembiulini dei piccoli Montagne di roba che sbatto in una lavatrice piena piena Con un carico così Guardi qui che razza di pulito Niente lava meglio del Dixan, mi creda Sentito, per la signora Borges niente lava meglio del Dixan E voi? Cosa aspettate? La bionda è solo Peroni Chiamala Peroni, sarà la tua birra Albarella L'isola Per abitare in mezzo alla natura Per vivere le tue vacanze Per essere pochi ma felici Albarella L'isola L'unione di migliaia di esperti dettaglianti È da vent'anni la realtà Sigma I risparmi ottenuti dai soci Sigma Diventano tuoi ogni giorno Nei negozi Sigma Attraverso la convenienza della qualità scelta In oltre 200 prodotti a marca Sigma Il servizio Sigma su misura con prodotti freschissimi È il grande risparmio delle buone proposte dei negozi Sigma Sigma L'esperienza di vent'anni al servizio del consumatore Insomma, voglio che usi un dentifricio al fuoro Ma io ne voglio uno che rinfreschi l'alito Scusate, a casa mia usiamo acqua fresh Provatelo Acqua fresh, asta bianca al fuoro Per proteggere con la sua azione igienica dalla carie Fresco gel per proteggere l'alito In un unico dentifrice Perfetto, se hai il fuoro E rinfresca l'alito Acqua fresh è il nostro dentifricio Acqua fresh, doppia protezione Con la sua azione igienica Aiuta a prevenire la carie E rinfresca l'alito Per un'attrice come me È molto importante avere una pelle morbida e luminosa Per questo uso Lux Per Lux vengono impiegate più sostanze naturali pregiate Di qualsiasi altro sapone Ecco perché la sua schiuma Lasce la pelle morbida e luminosa Lux, la luce della tua bellezza Basta rovinare le superfici delicate Oggi l'Isoform ti dà l'Isammonium Per tutte le superfici delicate L'Isammonium è nuovo È polvere cremosa Fai la prova L'Isammonium non graffia Ma non basta L'Isammonium ti dà il pulito garantito dal nome L'Isoform Sì, l'Isammonium non graffia E mi dà pulito sicuro sulle superfici delicate L'Isammonium Toscana Una terra così non può dare che un buon vino Come il Chianti Con suo caratteristico Il color rubino Il suo profumo così Vinoso E il suo sapore Ah E Toscana vuol dire vino buono E vino buono vuol dire Chianti Punto e basta Eh no Perché di grandi vini in Toscana ce ne sono tanti Bianchi, rossi, secchi Vini di Toscana Denominazione d'origine controllata Come Stappi Stappi bene E nuova Ecco Regatabs Bioformula L'unica compressa ad alta concentrazione di ingredienti bioattivi Per una pulizia perfetta della dentiera Una sola compressa scatena la forza pulente di una cascata Ed elimina ogni macchia Persino tra le fessure Nuovo Corregatabs Bioformula Pronto? Ciao Ciao Dove sei? Sto arrivando E per questa sera? Hanno telefonato Vengono tutti Bene Allora senti Tu pensa prendere qualcosa di speciale per voi signore Che per i signori uomini ci penso io Eccomi qua Ah Anche tu Monsheri Certo Monsheri per te Per i tuoi amici Perché il gusto e la bontà Fanno di Monsheri il pensiero giusto Sempre Monsheri Ferrero Monsheri per i tuoi amici Monsheri per i tuoi amici Monsheri per i tuoi amici